Dottor Nissanna, presidente della Nuoro Softball, tra un mese e mezzo inizia la tredicesima stagione nella massima serie. Un traguardo prestigioso, quello raggiunto dalla società nuorese. A che punto sono i preparativi per l'allestimento della squadra? Siamo in fase di preparazione, il campionato inizierà la prima settimana di aprile, per cui ora siamo nella fase terminale della costituzione della squadra. Abbiamo definito il roster, cioè l'elenco dei giocatori, abbiamo definito con le straniere che saranno due ragazzi cubani, per cui abbiamo fatto una nuova scommessa. Credo che anche quest'anno faremo un buon campionato. La tredicesima edizione non è una cosa semplice, ma come al solito stiamo sul campo e cercheremo di soddisfare e di rimanere all'apice della nostra attività. Anche quest'anno un mix di atlete italiane, sarde e straniere. L'obiettivo qual è in questa stagione? Avete confermato il manager cubano, Clei Rodriguez e Keto. Qual è l'obiettivo che vi ponete? L'obiettivo è sempre quello di far bene. Indubbiamente per vincere il campionato bisogna fare degli investimenti notevoli. La regione ha ultimamente tagliato i rimborsi e i contributi per queste attività e noi siamo costretti chiaramente a fare quello che possiamo fare. Vedremo il campo, che sarà sempre il giudice della nostra attività. Noi ci presentiamo con una squadra molto sarda, qualche conferma nazionale e le due straniere, dando come al solito un occhio di riguardo al nostro settore giovanile.